La ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri mi ha fatto venire in mente due curiosità riguardanti la mia città, Treia. Prima però desidero ricordare il compianto professor Dante Cecchi che è stato il primo ad occuparsi delle marche e dei marchigiani nella Divina Commedia. La prima curiosità. A Treia molto tempo fa soggiornò, suo malgrado, un signore che ebbe almeno una figlia che conobbe di certo Dante Alighieri. Era il condottiero Corrado d'Antiochia, nipote dell'imperatore Federico II di Svevia. Corrado nel 1263 tentò in vano di occupare Treia perché fu sconfitto, catturato e rinchiuso nelle prigioni locali. Dante Alighieri nel 1303 fu ospitato a Verona da Bartolomeo della Scala, il quale aveva sposato Costanza, una figlia di Corrado d'Antiochia. Quanto Dante tornò a Verona per la seconda volta nel 1312, Bartolomeo era morto e il poeta fu ospitato dal fratello Cangrante, il quale aveva sposato Giovanna, un'altra figlia di Corrado d'Antiochia. Tutto questo è documentato. Non so però se la prima, Costanza, riuscì a vedere Dante perché vi è incertezza sulle date. Invece il matrimonio di Cangrante con Giovanna, l'altra figlia di Corrado, durò tutta la vita e Dante soggiornò da loro per sei anni. È pertanto plausibile credere che il poeta e la moglie del signore di Verona si siano incontrati e abbiano parlato tra loro, vivendo così a lungo, a stretto contatto. Quando Corrado d'Antiochia morì ad Anticoli, Dante era già a Verona e di certo presentò le condoglianze a Giovanna e forse lei parlò al poeta della vita del padre e magari della prigionia di Treia? Chi lo sa? Ma ci piace immaginarlo. La seconda curiosità rimanda ad uno dei tanti illustri personaggi della nobile famiglia treiese degli acquaticci, il secondo giugno 1846-1919. Poeta, bibliofilo, musicista, Giulio Acquaticci è stato tra i primi e più grandi studiosi di Dante, distinguendosi soprattutto come collezionista di pregiate edizioni a stampa della Divina Commedia. Riuscì a mettere insieme 594 volumi, consumando tutti i suoi averi per la passione che aveva per Dante, tanto da essere costretto a vendere parte della sua collezione, che dopo varie vicissitudini finì nell'Università Americana di Notre Dame nell'Indiana, dove ancora si trova. Tra le tante preziosità in cui spiccavano copie rare della Divina Commedia stampate nel Quattrocento e nel Cinquecento, Acquaticci possedeva una edizione microscopica dell'opera, rarissima, stampata nel 1818 a Padova, un piccolo tesoro che Dolore Sprato, da bambina, riuscì a prendere in mano quando andò con l'ozio nella biblioteca treiese di Giulio. Una emozione che le ha fatto scrivere nel suo romanzo, io tenni nel palmo della mia sinistra tutta la Divina Commedia. Quante curiosità interessanti e a volte inimmaginabili, quanti legami con i grandi eventi ci riserva la storia delle nostre zone. Riprendiamo in mano i libri che ce la raccontano.